Buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati in diretta, Teresa D'Alessandro, parliamo di Stonlein con la migliore offerta della nostra giornata, il Today Special Ben. Di raccontarci la vostra esperienza con le Stonlein. Le Stonlein hanno aiutato a mangiare in modo più sano, hanno aiutato a cucinare dei piatti gustosi a chi magari non era particolarmente abile e hanno aiutato chi invece ha già la passione della cucina ed è un professionista come il nostro Marco a fare dei piatti ancora più buoni. Se voi non li avete ancora provate, oggi è l'occasione perché è la migliore offerta in assoluto della nostra giornata. Inquadrate il QR code oppure chiamate l'800 77 93 93.